Sport Piceno e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Chi è Alessandro e poi chi è Massimiliano? Io sono il batterista della band, nonché cofondatore, insieme a Massimiliano. Partecipo naturalmente, oltre che come batterista, anche all'arrangiamento dei brani, anche se il compositore è Massimiliano e do il mio apporto anche alla direzione artistica di tutta la baracca, se vogliamo dire così, offro tutto il mio supporto. Io sono Massimiliano, sono il cantante chitarrista, nonché diciamo compositore principale. Poi ovviamente adesso con la nuova formazione abbiamo iniziato a lavorare in maniera un po' diversa e lavoriamo a quattro mani nel vero senso della parola, però sono cofondatore insieme a Alessandro degli Oceana nel lontano 1994. Dicevo quando nasce gli Oceania, mi hai risposto, ma perché nasce gli Oceana e soprattutto come mai questo nome? Allora, Oceana perché il nostro vecchio nome non ci piaceva molto e un nostro amico ci ha consigliato questo nome proprio prendendo spunto da una canzone di un gruppo che noi amiamo molto, un gruppo che si chiama The Third and the Mortal, un gruppo norvegese con una cantante donna abbastanza lirica come stile. Il pezzo ci piaceva molto e anche il gruppo e quindi abbiamo detto perché no. Oltretutto questo nome secondo me si addice molto bene alla musica che facciamo e alla nostra passione. Noi siamo tutti grandi amanti dell'elemento acqua, quindi ben venga questo nome. Noi siamo diventati l'abitudine di catalogare il genere in musica, ma i ragazzi oggi come vivono questo mondo? Sono cambiate tante cose e continuano a cambiare. Dal mio punto di vista continua ad esistere un po' di tutto musicalmente parlando. Quello che forse è cambiato è un po' la ferocia con cui si critica la musica e forse ci si rifugia sempre un pochino di più in generi prestabiliti, preconfezionati, se mi passate questo termine. È cambiato questo. A noi questo non è mai piaciuto come approccio. Siamo dell'idea che la musica è qualcosa appunto di fluido ed è un grande contenitore A genere con l'uso di questo A privativo. I generi forse sono in scatolamenti che creano più problemi che altro. A noi piace prenderci la libertà un pochino di muoverci attraverso i vari stili, i vari generi senza porci troppi problemi. Oggi con l'informatizzazione così capillare forse avendo tutti la possibilità di dire la nostra si è un po' forse inferocita l'opinione pubblica in merito ai chiaroscuri e alle vie di mezzo come quella che possiamo proporre noi. Perlomeno questo è quello che ho visto nella mia esperienza prima che da musicista, da grande grande ascoltatore onnivoro di tanta tanta musica. Oltre al genere che fate voi, mi ricordo una pubblicità dove c'era il rocker che suonava su palco scatenato e poi entrava nello studio e sentiva la musica classica e mangiava una cioccolata. Assolutamente. Noi rispettiamo un pochino questo tipo di concetto, nel senso noi non siamo proprio dei classici metallari, diciamo stereotipati, nel senso amiamo delle cose che il metallaro medio non ama, inclusa la musica pop, inclusa la dance, cose che il metallaro medio non fa. Io non sono un grande venditore di birra, non sono un grande fan del poco, però allo stesso tempo capisco che sono cose che fanno parte del genere, le apprezzo, le ho fatte quando ero un pochino più giovane, però ho cominciato già da subito ad attenzionarmi ai gruppi che avevano qualcosa in più dal punto di vista dell'esoticità, delle sonorità estrane al metal. Secondo me dopo un po' c'è bisogno di creare qualcosa di nuovo e il metal è un genere che secondo me si presta molto bene alle contaminazioni, ovviamente devono essere contaminazioni in tema, non andrei mai a mettere del country all'interno del metal, non andrei mai a mettere dello ska nel metal, però devo dire che ci sono degli elementi che si possono prendere da altri generi che sono assolutamente compatibili con il nostro. Gli strumenti che suonate, come mai avete l'idea di prendere la chitarra, oltre che chiaramente il metal nasce con la chitarra elettrica, ma da quando avete iniziato a suonare ad oggi avete solo suonato la chitarra oppure avete imparato altri strumenti? Io personalmente essendo figlio di musicista, di orchestrale, precisamente percussionista, che però da ragazzo suonava anche la batteria, per me lo strumento è stata una questione ereditaria. Ho cominciato a suonare relativamente presto, intorno ai 12 anni, la batteria, però mi piacevano già tutti gli strumenti perché ero abituato in casa ad averne di vari tipi, essendo il lavoro di mio padre. Negli anni naturalmente poi ho mantenuto l'amore e la passione per la batteria, ma non mi sono anche lì precluso imparare un pochino a strimpellare anche il basso, grazie. Nel mio caso ho cominciato a suonare la chitarra a 8 anni, quindi ero piccolissimo e il grande paradosso è che non l'ho scelta per l'aggressività tipica del metal, ma l'ho scelta perché era uno di quegli strumenti che mi permetteva di accompagnarmi anche se cantavo, anche se volevo comporre una canzone che contenesse sia una melodia che degli accordi sotto, con la chitarra puoi riuscire ad essere indipendente e comporre una canzone, un po' come il pianoforte, cosa che non puoi fare col violino, parlando in maniera tecnica il violino è, possiamo dire che è uno strumento monofonico, mentre la chitarra ti permette di fare cose che con altri strumenti non puoi fare. E poi ovviamente nel tempo ho cercato di padroneggiarla quanto meglio potevo, ho studiato prima da autodidatta, poi ho preso delle lezioni più che altro di armonia, delle cose che mi mancavano perché la tecnica tu puoi svilupparla anche da solo facendo tanto tanto esercizio e io sono arrivato veramente a studiare pure 10-12 ore al giorno quando era la fase della tecnica, poi una volta appresa quello ho cominciato a capire che servivano delle cose più importanti, quindi la composizione, come organizzare una canzone, quali sono i trucchetti che puoi utilizzare per rendere fluida una canzone per l'ascoltatore e per quello la chitarra è uno strumento perfetto, tanto quanto il pianoforte. Allora, intanto prima di passare a parlare dell'album che è fantastico. Grazie, grazie. C'è un chitarrista che vi ha dato quell'emozione particolare, soprattutto quel chitarrista che quando lo sentite, prendete, dite, ecco, mi fermo qui perché indifferentemente dal conosciuto o meno conosciuto, però vi dà quella emozione che vi lascia senza parole. Allora, nel mio caso ne cito due e sono due chitarristi estranei al nostro genere. Al primo posto metterei Alan Holtzworth, che è ovviamente un mostro sacro della Fusion, sia per conformazione fisica della sua mano, che era letteralmente gigantesca, sia per la musica che scriveva, era un vero e proprio alieno. Al secondo posto invece metto Brett Garsed, che è un altro chitarrista a Fusion, che però ha delle capacità improvvisative, un fraseggio allucinante, e ovviamente non sono chitarristi metal, se dovessi parlare del metal citerei senza dubbio Marty Friedman, che per me è stato in assoluto la massima ponte di ispirazione. Ecco, se penso all'influenza maggiore che ho avuto nel metal, non posso non citare Marty Friedman. Nonostante non sia il mio strumento, ma essendo anch'io un appassionato di chitarra, se devo pensare a qualcosa fuori genere o comunque della storia recente della chitarra, sicuramente non posso assolutamente escludere, anzi, direi che chiamo a gran voce quello che per me è il grande innovatore che è stato Jimi Hendrix, perché per me ascoltarlo è un piacere immenso, ci trovo un futurismo allucinante, cioè è impensabile scrivere quelle cose in quegli anni. E contemporaneamente in un settore leggermente diverso a parità di anni, voglio citare il dimenticato, Aimee Terricette, che è stato chitarista dei Chicago prematuramente scomparso, che secondo me, anche a detta dello stesso Hendrix, è stato uno dei chitaristi più fenomenali di quegli anni lì. Avvicinandoci invece ai nostri tempi, leggermente sempre rimanendo nei 70, per me che sono un grande amante di Queen, devo dire necessariamente Brian May, perché è un chitarista che riconosco sempre e subito dalla prima nota, che è assolutamente personale in tutto ciò che fa e che mi ha influenzato la vita musicalmente parlando, in maniera molto profonda. Se invece andiamo nel metal, stavo per dire anche Marty Friedman, perché secondo me è una delle personalità più pazzesche che possa aver avuto il genere, dai Megadeth in poi, anche le cose che ha fatto da solista sono eccellenti, anche lì c'è una personalità pazzesca, e potrei andare avanti tantissimo, mi ha influenzato anche molto come Sound John Petrucci, perché ho amato tanto i Dream Theater, soprattutto nella prima fase della loro carriera, ma insomma la lista sarebbe molto molto lunga. A questo punto parliamo dell'ultimo lavoro, prima cosa come nasce questo lavoro, ma soprattutto come nasce la copertina poi? Allora, il disco nasce in maniera molto semplice, in realtà una sera a distanza di tantissimi anni rispetto a quando ci siamo formati, quindi parliamo di un quarto di secolo dopo, perché c'è stato un lungo periodo di stand-by nella nostra carriera, una sera io e Alessandro ci siamo fatti una domanda, ci siamo detti, ma perché non facciamo uscire un disco con tutte le nostre canzoni, anche quelle inedite che abbiamo scritto durante tutti questi anni, e ovviamente Alessandro mi ha detto subito sì, facciamolo, quindi questo disco nasce come raccolta di tutte le canzoni che noi abbiamo scritto dal 1993 al 1998, e abbiamo aggiunto a queste canzoni una cover, che è The Unforgiven, The Metallica, e abbiamo aggiunto anche un pezzo scritto proprio adesso per l'occasione, che è il pezzo che abbiamo scelto tra l'altro per fare il nostro primo singolo, che è You Don't Know, del quale abbiamo fatto anche il video, e quindi il disco nasce fondamentalmente dalla nostra voglia di lasciare un ricordo di tutto quello che noi abbiamo scritto fino a quando ci siamo fermati. Ovviamente questo ci ha dato nuova verve per poter poi scrivere nuove canzoni, infatti stiamo già lavorando al nuovo disco. Questo album, la copertina come nasce? Ma soprattutto chi l'ha disegnata? Perché è fantastica. La copertina, grazie innanzitutto, la copertina è opera di Travis Smith, che è un artista americano, in questo caso ringrazieremo anche lui, è un artista americano già noto per aver realizzato delle copertine molto importanti nell'ambito, ma anche fino al merchandise per i metallica, dalle copertine di Opet, Catatonia, Novembre, piuttosto che altre band veramente, i death, band veramente che hanno fatto la storia del genere. Massimiliano c'era già in contatto perché aveva avuto occasione di collaborarci in passato, ci siamo rivolti subito a lui, presentandogli un'idea, sempre di Massi, che Travis ha rielaborato e fatta sua, diciamo, in tempi veramente record. Lui è un artista visionario fantastico e ha interpretato questa visione di Massimiliano che voleva essere una civiltà ormai arrivata al limite della sua storia, della sua sopravvivenza, che si rivolge ai piani superiori come ultimo grido d'aiuto. Infatti nella copertina si vede un tori sullo sfondo che è il portale dell'architettura sacra giapponese che sta a rappresentare il passaggio, il portale di passaggio tra il mondo profano che è il nostro al mondo sacro spirituale. Quindi c'è questa popolazione che vuole intraprendere questo miglioramento, questo salto, molti lo chiamano salto quantico, di vita e di esistenza. Travis ha convogliato tutte queste idee in questa immagine così forte e così suggestiva, ci ha mandato dopo poco la prima bozza ed era molto, molto simile a quello che già si vede nella copertina. Siamo rimasti assolutamente sballorditi e ha fatto un'opera veramente incredibile e ne siamo felicissimi. Adesso passiamo con i nuovi lavori perché mi hai accennato dicendo che già sono procinto nuovi lavori, non bisogna fermarsi. Mai. No, no, assolutamente no. Abbiamo già iniziato a scrivere i pezzi nuovi già da parecchi mesi e siamo in realtà già alla fine perché a giugno entreremo in studio per registrare il nuovo album, a settembre finiremo, quindi ci siamo presi un bel po' di tempo per registrarlo, proprio per fare un prodotto di qualità. E poi da lì ci sarà la promozione per il nuovo album. Devo dire che a livello musicale ci sono stati dei grandi cambiamenti, nel senso l'adolescenzialità che puoi carpire minimamente dai pezzi presenti su The Pattern, proprio perché sono stati scritti quando avevamo 18 anni, cioè dai 16 ai 18 anni, ovviamente adesso non ce n'è più traccia di quello. Credo che sia un disco più maturo rispetto a The Pattern e in parte abbiamo tolto qualche sfumatura che ci rendeva un po' indecisi musicalmente e abbiamo sviluppato definitivamente un nostro sound che è particolare perché ha delle caratteristiche piuttosto estreme nei lati più oscuri e molto più solari sulle parti invece melodiche e più tranquille. Quindi io personalmente sono veramente orgoglioso del lavoro che stiamo facendo tutti e quattro insieme e secondo me sarà il disco più bello che abbiamo mai fatto, nonostante abbiamo pochi album come discografia perché abbiamo solamente un EP e The Pattern, quindi questo terzo prodotto secondo me sarà il migliore finora, ovviamente. Se poteste viaggiare, io vi diamo un pulsante per viaggiare nel tempo e nello spazio e salire su un palco a scelta per suonare quel concerto, essere partecipi o comunque essere quella band insieme a altre band che stanno suonando in quel momento. Quale concerto vi piacerebbe saltare? Mi sa che la scelta è piuttosto ardua ma il primo che mi salta in mente per una questione affettiva è perché forse quello è il live più incredibile di una delle band più incredibili della storia è un live in Giappone dei Metallica ma sì, ogni tanto guardiamo spesso insieme, no? Non ricordo adesso il posto Nagoya Nagoya, grazie. Il live di Nagoya dei Metallica ahimè, purtroppo nel 1986 appena morto Cliff Burton e appena subentrato Jason Newsted quindi un momento molto drammatico nella storia della band però ragazzi, una resa una botta, come si dice dal vivo una presenza e una performance mai viste nel mondo del metal ecco, se potessi avere un pulsante magico starei volentieri su quel palco a fare il metal con la M più maiuscola che io abbia mai visto io personalmente ne scelgo due se posso permettermi uno ovviamente è del nostro genere quindi non posso non citare il Monsters of Rock che per me è stato un cioè, ne ho visti tre quindi per me è stato un evento particolare nel senso c'era tutto il gota del metal presente su un palco quindi sicuramente quello e poi visto che mi hai detto che il pulsante permette di andare anche molto indietro nello spazio e nel tempo ovviamente io ci metto Woodstock che è completamente fuori dai nostri parametri ma secondo me è stato l'evento più sconvolgente di tutti i tempi e dal punto di vista musicale c'è stata un'affluenza incredibile e tutte le persone che stavano lì erano totalmente immerse nella musica e nel messaggio che c'è dietro la musica quindi se si potesse fare un Woodstock oggi comprendente il meglio del metal secondo me sarebbe uno dei concerti più belli di sempre l'emozione che provate quando salite sul palco sotto, parliamo di concerti metal non c'è gente a sedere con la Coca-Cola o comunque qualcosa che o il librettino che osserva ma avete sicuramente gente che è scalmanata ma che emozione provate e soprattutto che reazione vedete davanti che sensazione vi dà Allora, io posso dire una cosa per me la cosa più bella quando stai sul palco è vedere gli sguardi di quelli delle prime file che in determinati momenti magari parlano con quello che c'hanno a fianco per dirgli senti che bella sta parte oppure li vedi estasiati con gli occhi chiusi però il vero punto forte del concerto secondo me è il dopo concerto quando scendi dal palco ti dai una sciacquata e vai a incontrare i fans quello per me è il vero il vero spirito del concerto nel senso quando saliamo sul palco in realtà c'è una vera e propria trance cioè ognuno di noi entra in una in uno status che non è tanto di collegamento con la gente dal punto di vista pratico ma è un collegamento ben più profondo cioè uno si concentra sul suonare ma nella realtà è l'empatia che c'è fra persone fra il pubblico e te che crea poi quello stato in te mentre suoni quindi io più di questo non posso dire io invece dalle retrovie posso dire che non vedendo le prime file la più bella sensazione è quella di sentire letteralmente l'energia la grande grande energia che scorre in tutta la situazione quindi sia sul palco fuori dal palco tra palco e pubblico tra la band e il pubblico ed è un tipo di energia che ti spinge a dare il massimo a a dirti adesso vi faccio sentire io vi faccio vedere io è è un tipo di energia molto molto bella e lega un grande un grande insieme di cose perché c'è tanta tensione naturalmente c'è sempre una tensione che però dalla quale poi ti liberi subito una volta finito l'evento ed è meravigliosa quella sensazione è mista ad una sensazione di soddisfazione anche non soltanto personale ma anche poi interconnessa a quella dei tuoi compagni di viaggio quando poi hai finito e ci sono anche nel durante ci sono degli sguardi dei momenti che poi ti racconti che poi vai a sottolineare che sono per il più delle volte divertenti o di soddisfazione certe volte anche magari c'è un problema tecnico magari hai risolto una cosa insomma c'è una grande varietà di cose dietro però per me sentire quell'energia così forte è veramente una delle sensazioni più belle nelle varie domande assurde o comunque strane che vi hanno posto in questo tempo cioè da quando avete iniziato a oggi sicuramente mi ricordo che con Giona abbiamo parlato che stava con i vampiri e diceva lei è un vampiro in questo caso voi vi hanno posto domande che voi effettivamente avete fatto una faccia come dire in realtà non cioè guarda devo dire devo dire di no e secondo me dipende anche dal fatto che ci siamo creati un'immagine uno stile che non prevede questo genere di stranezze non escludo che in futuro non possa arrivare qualche domanda che ci lasci letteralmente interdetti però nella realtà fino adesso tutte le interviste ne abbiamo fatte tante sono state molto rispettose del nostro mood quindi no non c'è non è stato nulla di imbarazzante finora sì assolutamente condivido devo dire che non è accaduto niente di tutto questo fortunatamente ma anche se dovesse accadere comunque credo che per come siamo fatti noi la maggior parte di eventuali domande imbarazzanti sarebbero prese comunque con un sorriso con una risata e troveremmo il modo poi di di farci ecco di renderle divertenti o comunque di chiederci su fortunatamente non è ancora successo io a questo punto vi porrei se vi potesse fare una domanda l'una all'altro a questo punto che cosa vi domandereste bello marzulliano come approccio allora io la cosa che chiederei a Sancio è sei ancora convinto di quello che stiamo facendo ti rispondo in diretta certo che sì dai certo che sì assolutamente beh dunque dunque se dovessi porti una domanda al volo io poi me l'hai in realtà mi hai risposto mille volte a questa cosa indirettamente però colgo l'occasione perché è una cosa io non mi occupo di composizione sono un batterista che non non compone e strimpella altri strumenti ma non non sono mai riuscito in vita mia a scrivere una canzone e ne abbiamo parlato spesso con Massi devo dire in tutti questi anni però so che poi ogni volta l'esperienza compositiva è diversa varia anche da canzone a canzone l'ispirazione è diversa io continuerò sempre a chiederti come si fa come si fa a comporre per me questa rimane rimane uno dei più grandi misteri dell'esistenza la mia risposta quella più divertente potrebbe essere non sono la persona adatta a cui chiederlo nel senso ancora ce n'ho di strada da fare però per quello che ho capito io le componenti più importanti sono trovo un buon tema e sviluppa una progressione di accordi belli automaticamente verranno le parole di un testo automaticamente verrà fuori un ritornello cioè parti da piccoli elementi e sviluppali e automaticamente troverai una buona strada non partire dal nulla cerca un tema che sia una piccola melodia che sia un qualcosa di ricorrente e in base a quello sviluppa e te ma che facile la domanda poteva proseguire nascono prima le parole e poi nasce la musica o in entrambi i casi nascono insieme nel nostro caso no nascono assolutamente dopo e mi impongo di ascoltare la canzone finita per poter poi nella mia testa visualizzare un'idea che mi spinga a scrivere delle canzoni cioè delle parole scusa che vado poi a mettere in metrica sulla melodia che ho già scritto però è difficile che io parta da un testo prima perché poi diventa complicato solamente da un testo sviluppare una melodia la melodia è molto importante perché è quell'elemento che anche i bambini riescono a metabolizzare mentre gli accordi il bambino non sa nemmeno che cosa sono la melodia è importante la capiscono tutti anche gli animali quindi prima sviluppo una melodia una volta che c'è la melodia puoi decidere quali parole ci suonano bene sopra ma mai il contrario quelle sono cose che vanno più bene per i cantautori o per la musica leggera laddove non c'è una grande necessità di trovare una melodia che sia sempre uguale quindi tanti tipo Bob Dylan basano tutto sul testo nel nostro caso è esattamente l'opposto cioè il testo viene dopo in base al profumo che sentiamo una volta ascoltata la canzone per Alessandro batteria è chiaramente uno strumento non semplice perché la batteria è uno strumento molto complicato e abbiamo conosciuto diversi batteristi e abbiamo visto tanti generi chi si veramente un batterista ci disse in realtà la scena delle braccia più o meno muovi le spalle e più sei tecnicamente bravo più sei sgrassiato in movimento e provente nel rock si fa molta scena ma la tecnica è fondamentale la tecnica è fondamentale secondo me secondo il mio modestissimo punto di vista è fondamentale in funzione di ciò che fai se ciò che fai ti porta a muovere tanto le braccia e poi se questo poi ti porta anche elementi scenografici ben venga ma se la tecnica che tu sfrutti per fare ciò che fai ti porta a muovere molto le braccia ma nonostante questo che può essere criticato dai puristi della tecnica ti porta ad un buon risultato secondo me non è assolutamente un problema anzi potrebbe essere un elemento caratterizzante o addirittura come dicevo prima scenograficamente valido qualora magari tu sei un batterista rock metal ma devo dirti che ci sono molti batteristi scalmanate anche nel pop che fanno molta scena e quindi tutto sommato è un po' anche la batteria che ti porta a quel tipo anche molti gezzisti si muovono molto è anche un po' la natura dello strumento che è talmente atavica come impostazione perché è stata la nostra prima forma di comunicazione musicale il tam tam ti porta a questo tipo di approccio io non critico assolutamente né la tecnica pura né l'assenza totale di tecnica secondo me bisogna essere bravi in ciò che si fa partendo dal presupposto che si sia consapevoli e lucidi nelle scelte che si fanno uno dei miei batteristi preferiti in assoluto che è stato ahimè prematuramente scomparso Jeff Porcaro non ha mai fatto una solo e secondo me era tecnicamente preparatissimo per farlo a lui non interessava e nessuno si è mai azzardato a criticarla questa scelta quando era costellato il mondo è sempre stato costellato di batteristi che non vedono l'ora di mettersi in mostra anche batteristi molto meno preparati di Porcaro fanno a soli quindi è una questione di scelte poi naturalmente quando vai a sentire i dischi dei toto e sai che sono registrati buona la prima buona la seconda senza click ti poni delle domande ecco secondo me è importante essere bravi in ciò che si fa e lucidi nelle scelte che si prendono io sono cresciuto ascoltando la batteria dei Rush che voglio dire e sono passato poi a una situazione strana quando i Deathlight Party si fermarono per aspettare il proprio batterista che imparasse a utilizzare la batteria con una sola mano e tutta elettronica però aspettarono si fermarono per poi creare un album che fu storia che sicuramente l'album io mi inchino io mi inchino veramente una scelta un coraggio una forza di volontà un senso artistico un senso di rinnovamento mai visto prima una cosa senza precedenti nella storia della musica io mi inchino di fronte a quel disco a quella band e a Rick Allen assolutamente ci sono stati momenti in cui gruppi band sono arrivati in auge come esempio Metallica con l'album Metallica l'album sicuramente ogni tanto si compare nelle hit qualche gruppo che in realtà non fa musica orecchiabile commerciale ma riesce a vendere tantissimo di Metallica poi c'è stato vabbè Bon Jovi Poison e tanti però poi a un certo punto ho fatto quella canzone e poi ritornano nel cosiddetto anonimato purtroppo sì guarda ci sono state incursioni del metal nella musica mainstream però guarda caso sono sempre accadute quando un musicista metal o hard rock andava a collaborare con un determinato produttore in questo caso Bob Rock perché è successa la stessa cosa con Metallica con i Rischi Draw con i Motley Crew guarda caso il punto in comune era sempre Bob Rock quindi bisogna chiedersi un paio di cose in merito a questo argomento perché ci sono dei produttori che riescono a portare una band in classifica al di là del genere che poi si suona ci sono come dicevo io dei trucchetti secondo me per poter arrivare a più persone ovviamente è difficile però accade accade ogni tanto questa è l'ultima domanda in assoluto ci vuole la morte per far trasformare una persona grande in un mito? no secondo me no ma secondo me invece spesso purtroppo accade così tanti artisti rimangono nel dimenticatoio finché non se ne vanno guarda Luigi Tenko guarda tanti altri purtroppo è un aspetto molto molto triste di questo lavoro soprattutto se fai musica impegnata e non fai musica per tutti è triste da dire ma forse la gente si ricorda gli sperimentatori solo quando non ci stanno più guarda Alan Halsworth Alan Halsworth è morto in povertà e adesso è sta nel gota tra i migliori chiederrissi del mondo però prima purtroppo era costretto a farsi aiutare dai fans perché non arrivava a fine mese quindi purtroppo è così secondo me allora un saluto a tutti gli ascoltatori grazie di averci seguito e vi mandiamo un forte abbraccio e ascoltateci e speriamo che vi piaccia la nostra musica e a presto ciao ciao a tutti grazie per essere stati con noi per averci seguiti in questa intervista grazie a tutti coloro che vorranno ascoltare la nostra musica grazie a tutti coloro che sostengono la musica soprattutto in questo momento difficile restate sani grazie a tutti